Buongiorno a tutti, ci troviamo nel mese di aprile, il sabato 10 del mese di aprile del 2021. L'idea mia di fare parecchi video rappresentate le cose di tutta la mia vita con vari argomenti e l'idea è nata un po' di tempo fa, solo che non c'era ancora possibilità, adesso con questa faccenda di YouTube rimane tutto molto più semplice. Allora, adesso io vi faccio vedere una cosa un po' strana, comunque io sono sempre quello delle cose un po' strane, faccio che girare qua e vi faccio vedere subito, allora ecco qua, questo qui è ricavato questa cosa da un bollettino parrocchiale che avevo contribuito a fare già nel 1980 e qualcosa, 85-86 eccetera. E queste sono alcune pagine di quel bollettino parrocchiale qua di frinco d'asti e vi vado subito a spiegare questo. Vedete qua, crack, cosa vuol dire? Vuol dire cobitato, ritrovo, annuale, cugini, cantino. Allora, un bel giorno mi sono messo in testa di andare a cercare i cugini in giro per il mondo che ce n'erano tanti e il primo incontro l'abbiamo fatto nell'85 e siamo stati al ristorante Cicotto a frinco e ero riuscito allora a radunare 32 persone, tutti i cugini primi e da lì è nata l'idea di proseguire con questi incontri e poi ne abbiamo fatti altri. Il secondo che probabilmente è stato più importante, questo qua, il secondo incontro, nel 1989 erano presenti 123 persone. Non vi dico il lavoro, dietro a questo c'è stato un grande lavoro, ho interpellato vari cugini, quelli un po' più appassionati di queste cose e li ho messi al lavoro, un po' tra l'altro assieme avevamo avvisato tutte queste persone e ci siamo ritrovati. Ne hanno parlato anche i giornali, adesso poi vi faccio poi anche vedere i giornali, adesso non li ho sotto mano, ma prima o poi ve li faccio anche vedere. Allora, parliamo di quello che abbiamo già qui sotto mano, che così a me non ci sbagliamo. È scritto abbastanza grande, quindi si dovrebbe vedere. Allora, le quattro pagine qui riprodotte sono ricavate dal bollettino in frigo del luglio dell'89. Ecco qua, avete visto? Crack, ecco questa è la mia idea delle sigle, io so come delle sigle. Il Crack, comitato di trovo annuale, cugini e cantini. Allora, vi leggo solo brevemente, poi voi comunque potete leggere tranquillamente, è già stato detto tutto su questo argomento. Sempre esagerato parlando ancora, quando la stampa nella pagina dedicata alla provincia di Asti denomina questo avvenimento, il Cantino Dei, lo hanno chiamato, ma sai i giornalisti. Il giornalista Minello dà una chiara esposizione dei fatti. Quando Telecagliano invia i cameraman a immortalare quanto succede, poi la sera stessa prepara un programma da fare in video alla RAI. Don Luigi lo commenta e lo trasmette con grande piacere e soddisfazione dei cugini Cantino, dei frinchesi e paesi vicini. Quando con una semplice telefonata, Cantino Francesco, promotore di questa giornata, si assicura una seconda trasmissione per il sabato successivo e non basta perché è insaputa di tutti. Telecagliano trasmette anche il martedì seguente con sorpresa della gente a dimostrazione che nei nostri paesi questa emittente locale è molto seguita. Come dicevo, pare che sia stato detto tutto, ma che per chi non sa di cosa stiamo parlando è doveroso breve riassunto. Nel 1985 un gruppo di 25 cugini Cantino, tutti nativi di Frinco, si incontra nel ristorante Cicot. Da lì nasce l'idea di cercare tutti i parenti che hanno avuto vita da un comune Avo, Cantino Giovanni nato a Frinco intorno al 1820. Ecco Francesco, appunto uno di questi, Cantino, già impegnato in tante altre cose, recepisce l'idea e in un paio di anni, aiutato da parecchi cugini, Cantino Giglio, Teresio, Cantino Adolfo, Gaspardonella, Caldera, Domenico e altri, riesce a radunare 135 parenti e il 28 maggio 89, sempre nel ristorante Cicot, ormai diventato un punto di riferimento da Elvia ad una giornata che difficilmente sarà dimenticata. Durante il pranzo Francesco con l'ausilio di un microfono fa alzare in piedi uno per uno tutti quanti dicendo nel nome a vantaggio di chi non si conosce. Con questo sistema percorre tutto l'albero genealogico che è appeso alla parete in formato gigante da prova dell'impegno assunto anche solo per il fatto di essere stato disegnato e viene consegnato in formato ridotto ai capofamiglia presenti in modo che venga tramandato ai posteri. allegri, applausi a non finire e in particolare soffermarsi nella spiegazione della vita di questi personaggi che nelle varie epoche con i loro comportamenti hanno dato lustro a questa grande famiglia. Dopo aver accettato la dimissione del simbolico presidente Cantino Giulio, Giulio, che sarebbe Giulio, ne è stato nominato un altro altrettanto simbolico nella persona dell'ingegner dottor professor, che mi aveva esagerato i titoli, Cantino Dario che è un altro cugino primo nostro. Al termine del pranzo tutti quanti si sono portati davanti alla casa di Francesco costruita da suo bisnonno nel 1878 che ha visto nascere un ramo molto folto, sono state scattate varie foto, ricordo, e in particolare i partecipanti hanno anche potuto visitare il museo dell'agricoltura creato in questi dieci anni per ricordare il modo di vita e i sacrifici dei nostri avi. Insomma, è tutto qui, ma Francesco ribadisce che non è finita perché da poco ha scoperto che il suo trisnonno aveva chi dice sei, chi dice sette fratelli e non si darà pace sino a quando non riuscirà a ricostruire questi altrettanti rami. Certo sarà un lungo lavoro, ma conoscendolo sono certo che alla fine ci riuscirà, a meno che non intervengano difficoltà insormontabili perché nei documenti di secoli scorsi purtroppo non veniva esattamente tutto registrato, mancavano i computer, le penne d'oca ogni tanto si spuntavano e non scrivevano più. Chi si avventura in questa ricerca? perché è un temerario, qualcuno dice che gli manca un venerdì, altri asseriscono che non ha tutte le rotelle a posto. La domanda più ricorrente è ma perché lo fa? Chissà cosa si guadagna, ci sono cose più importanti a questo mondo, ma una cosa è certa, si scalano montagne, si va in fondo ai mari, sulla luna, gli speologi vanno in grotte buie, c'è chi studia gli atomi, i microbi, poi c'è chi gioca a bocce e chi fa uno scopone con gli amici. Allora, perché non si può tentare di scoprire le proprie origini? Ecco, l'idea di andare indietro qua, l'idea di andare indietro nel tempo, dice Francesco, è nata perché in giro ci sono molti cantino che non sono reputati parenti a causa del fatto che se ne è persa la memoria, quindi è solo un lavoro di ricerca, il materiale per lavorarci sopra c'è in comune, gli archivi risalgono nel 1860, ma Don Guido, che era il parroco qua di Frinco, asserisce di avere registi a partire dal 1600, quindi manca solo il tempo e la voglia, due argomenti molto difficili da conciliare al giorno d'oggi, se non ne interviene un terzo, la passione, purtroppo non è una cosa che si impara a scuola e neanche ti viene donata alla nascita, ma te la devi coltivare un po' per volta con tanta pazienza. In questi casi, finalmente i soldi non c'entrano niente, il miraggio di un eventuale guadagno non è neanche preso in considerazione, ma ciò che riesci a realizzare ti ripaga sicuramente e ampiamente di tutti i sacrifici. Ciò che molta gente del nostro tempo, ammalata di materialismo, tante volte non riesce a capire è proprio questo. Quante volte ci troviamo a discutere di questi argomenti e salta sempre fuori che per niente non si fa niente, per questo niente, è sempre riferito al denaro. Ecco, il denaro ti permette di mangiare, vai in ferie, compri l'auto, è la casa in cui abitare. Non è che con questo si debba ripudiare il denaro, bensì si deve trovare intorno ad esso un giusto equilibrio, trovare lo spazio per il tempo libero al di fuori del lavoro, contribuire alla sensibilizzazione dell'uomo in modo che diventi più umano, guidare le nostre azioni e rivolgere verso gli altri spassionatamente. Boh, c'è ancora una pagina. In un primo tempo la gente non capirà, poi però, vedendo ti insistere, incomincerà a porsi delle domande e qualcuno cercherà di fare altrettanto, sembra quasi di aver inventato l'acqua calda, ma non è così. In quasi tutte le regioni del mondo, ad esempio, vi è questa componente rivolta all'altruismo, ma forse ci siamo inariditi troppo e il nostro cuore non sa più distinguere. Sembra quasi di essere andati fuori tema, ma non credo, perché anche il fatto di ricercare il proprio origine rientra nell'altruismo. In questo raduno dei cugini, ad esempio, si è risaldata tutta una stirpe, si sono ravvicinati quei parenti che non si erano visti da tanto tempo, si è data la possibilità alle persone anziane che sono quasi sempre sole di vedere i giovani e viceversa ci sono cugini che non si erano mai conosciuti e scoprono di avere gli stessi interessi. Si scopre magari che quell'impiegata dietro a quello sportello bancario che per tanti anni ti ha servito è una tua cugina. Si risaldano vecchie ferite dovute a dissidi e incompressioni, eccetera, eccetera. Ditemi se è poco dal nostro inviato speciale che poi alla fine ero io perché l'ho scritto io l'articolo. Allora io adesso vi voglio far vedere, queste foto sono un po' in bianco e nero, ma ve le faccio vedere quelle a colori che le ho nel computer. Un attimino e così terminiamo questa cosa. un attimo che andiamo a cercare, arrivo subito, allora dovrebbero essere, no, sbagliato, scusate un attimo, eccole, dovrebbero essere qua, eccole qui, adesso ve le faccio vedere, eccole qui, eccole qua che dobbiamo, la solita storia, la freccia che non si trova mai, dove andate? Eccola qua, eccola qui, ingrandiamo qua, eccolo qui, si vede bene, questo va a colori, chiaramente si vede meglio, beh comunque qua ci sono le foto, qui è ripetuto di nuovo quello che vi ho già detto prima, gli incontri, i vari incontri che ci sono stati, questo era quello dell'89 e qui potete vedere che 28 maggio dell'89 in chiesa, siamo andati prima in chiesa ovviamente, la messa, guardate che bella la chiesa di Frico, come era bella, perché adesso è chiusa da un po' di anni. Ecco qua, chiesa, guardate quanti, fuori dalla chiesa, la foto fuori dalla chiesa, il ristorante da Cicot, tutti i parenti, i figli avevano fatto non so quante tavolate, qui mia figlia Nadia, dono di Nadia al Papa Francesco e aveva, pensate che ha fatto lei, ha fatto ricamo, aveva ricamato questa frase che dice, quando anche avessi la fede senza l'amore non sarei nulla, cosa mi ha fatto molto piacere, guarda qui ero un po' più giovane, qui erano ben organizzati. E questa è la foto generale, poi non c'eravamo poi neanche tutti, è fatta davanti a casa mia, foto di gruppo davanti a casa, qui la metà di queste persone sono già decedute, specialmente quelli anziani che sono qua davanti. Comunque fa piacere, ovviamente queste sono cose che interessano i parenti, però detto tra noi, secondo me è stata una bella avventura anche questa e sono contento di avervela proposta e specialmente adesso lo faremo poi, avviserò un po' i cugini quelli più giovani che erano lì, che adesso saranno già diventati vecchi. Se vogliono rivedere un po' come era andata la faccenda, avranno la possibilità di rinfrescarsi la memoria. Signore e signori, io vi saluto e vi ringrazio per aver avuto la pazienza. State bene tutti di qua.